L'autopsia è un'attività complessa che prevede una serie di attività. Solo all'esito di questa serie di attività è possibile avere il quadro completo. Se no abbiamo dei pezzettini che possono essere smentiti dagli accertamenti successivi. Una decina di giorni almeno, insomma, 10-15 giorni ci vogliono. In attesa dunque degli esiti autoptici sul corpo dell'autista quarantenne del bus Alberto Rizzotto, che potrebbero anche svelare la causa dell'incidente, il procuratore Cherchi ha evidenziato che al momento non risultano altre indagini sul cavalcavia, come riportato in questi giorni da alcuni organi di stampa su un presunto fascicolo relativo a dei crolli di cemento segnalati proprio alla procura negli anni scorsi. Io intanto voglio vedere se abbiamo ricevuto questi documenti di cui tanto si parla. Io ho dato a disposizione che si faccia una ricerca in archivio per vedere se ci sono, se ci sono, li guardo e poi vi saprò dire che cosa è successo. Intanto sono stati acquisiti documenti dal comune che ancora però non sono stati esaminati. Stiamo ancora aspettando sia le comunicazioni dei vigili del fuoco, sia le comunicazioni della polizia municipale, che anche questi evidentemente hanno dei tempi di individuazione, di assemblamento, di redazione che è necessario rispettare. La procura sta ancora valutando quali perizi effettuare e a quali tecnici affidarle, mentre si continuano a sentire i superstiti già provati fisicamente ed emotivamente. Noi li stiamo sentendo tutti, come ho detto in un'altra occasione, sempre tenendo presente che si tratta di soggetti che hanno subito traumi fisici e psicologici fortissimi. L'elemento comune è quello che peraltro è emerso da subito, cioè che i colpi sono stati sentiti sulla destra del mezzo.